Si conclude un anno coronato da successi e da un grande impegno sportivo da parte dei nostri associati, da parte dei nostri settori e in modo particolare dal parte del settore acquinterne che ha raggiunto dei risultati sul piano nazionale e sul piano internazionale veramente notevoli. Un ringraziamento quindi al Presidente del settore acquinterne, all'amico Balella e a tutti i suoi collaboratori perché il programma che è stato stabilito per l'anno 1993 sia altrettanto foriero di successi come quello che ormai lasciamo alle nostre spalle. Un ringraziamento a tutti gli associati alla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacue, a tutti i dirigenti centrali e periferici, a tutti gli sportivi che ci hanno seguito con molta attenzione e con molto interesse. Il nostro è uno sport che si lega alla società civile, è uno sport che intende preservare le acque, che intende tutelare l'ambiente, che intende difendere la natura e l'impegno nostro quindi non è quello di essere dei pescatori sportivi ma è quello di tutelare l'ambiente che ci circonda, di tutelare tutto ciò che fa parte del nostro patrimonio, della nostra cultura e quindi del nostro impegno sportivo. Alla vigilia dell'attività che non tendiamo a svolgere per 1993 non posso che sottolineare, augurando a tutti i nostri associati un buon Natale ed un felice anno nuovo, augurandomi che il 1993 e gli anni futuri siano veramente forieri di grandi successi per la nostra Federazione e per la pesca sportiva in generale. Dopo gli auguri del Presidente Onorevole Francesco Colucci, il Presidente Settore Acque Interne Virginio Balella. Cari amici, è con grande onore e soddisfazione che ho il piacere di presentarvi a nome della Federazione della Pesca Sportiva la videocassetta che riassume gli avvenimenti più importanti della nostra attività. È una doppia soddisfazione perché chiaramente ci ha visto trionfare in queste manifestazioni e quindi mi sento in dovere di ringraziare, perché è una delle poche occasioni che abbiamo, di ringraziare tutti quanti per la collaborazione dai componenti del Comitato di Settore, al Consiglio Direttivo, ai componenti delle commissioni, le commissioni sportive, le commissioni tecniche e soprattutto di ringraziare tutti quanti quei Presidenti di società che hanno profuso impegno per lo sviluppo della nostra attività. Consentitemi nel contempo di ringraziare il videolaboratorio realizzatore di questa cassetta e tutti quanti gli sponsor che sono intervenuti per rendere economicamente realizzabile questa cosa. È molto importante per noi, alla fine di un mandato, poter avere a disposizione qualcosa di visivo che consenta di dare un'immagine del nostro lavoro. Quindi di nuovo tanti ringraziamenti a tutti quanti, a quelli che hanno lavorato, collaborato con noi. Mi sia consentito formularvi gli auguri di un migliore Natale e soprattutto di un felice anno nuovo. Felice anno nuovo che vi auguro di poter interpretare nella migliore tradizione sportiva. Grazie. Grazie a tutti. 50 anni tutti d'oro quelli della FIPS quest'anno. Quale miglior modo per festeggiare il mezzo secolo di fondazione se non quello di inserire nel già ricco palmarès della Federazione tre ori mondiali? Detto e fatto, gli azzurri hanno conquistato infatti il titolo della pesca a Mosca a Castel di Sangro a giugno. Quello di pesca al colpo in acqua dolce a Enniskillen nell'Irlanda del Nord a settembre e la prima coppa del mondo di pesca alla trota in fiume a Darfo Boario Terme sempre a settembre. Hanno vinto in pratica tutto quello che si poteva vincere dimostrando ancora una volta di essere arrivati agli apici in campo internazionale in tutte le tecniche di pesca. Un plauso per tutto questo va sì a quanti si sono cimentati sui campi di gara impegnandosi al massimo ma una gran fetta di merito va anche alla Federazione che ha saputo portare l'agonismo italiano ad altissimi livelli mettendo a disposizione strutture e fondi perché ciò avvenisse. Andiamo ora a vedere quanto e cosa è successo nei tre diversi campionati che hanno visto sempre i colori azzurri e lo stemma della FIPS primeggiare alla grande. Iniziamo la panoramica da Castel di Sangro dove si è svolto il dodicesimo campionato del mondo di pesca a mosca. La ridente cittadina abruzzese si trova a un centinaio di chilometri dall'Aquila e a mille metri circa sul livello del mare con il fiume Sangro che le fa da cornice. Al nastro di partenza della manifestazione internazionale 21 nazioni giunte da ogni parte del mondo. La manifestazione inizia con una grande sfilata per le vie del paese tra gli applausi della folla che ha fatto da contorno fino al campo sportivo dove ad attendere gli atleti c'erano le autorità locali e i rappresentanti della federazione italiana e di diverse federazioni straniere. Ottima l'organizzazione curata dalle sezioni provinciali FIPS dell'Aquila e di Isernia in collaborazione con gli enti locali. Presenti in tribuna d'onore il presidente del settore FIPS Acque Interne Virgilio Balella, il presidente del settore mosca Vincenzo De Marco, il sindaco di Castel di Sangro Gargano con l'onorevole Ricciuti, il presidente del settore mosca internazionale Jack Simpson accompagnato dalla moglie e il segretario della stessa federazione mister Ferguson. La cerimonia d'apertura si è conclusa con l'accensione del tripode da parte di Tonino Sansonetti, campione del mondo nel 1983 e beniamino locale. Poco dopo un elicottero ha scaricato sullo stadio migliaia di fiori. Direttore tecnico della Nazionale italiana è Vincenzo Davighi da sette anni nel cannazzurro e da tre anni mister della nazionale. Ma quest'anno è dovere riuscire a portare a casa un importante risultato. Possiamo secondo lei farcela e quali saranno le squadre antagoniste? Tutti gli altri paesi danno di solito per scontata e favorita la nazionale ospitante. Però ci sono delle nazionali che sono fortissime, si parla di Inghilterra, super blasonata, Francia, il Belgio, la Ciccoslovacchia e la Polonia. Stiamo costruendo questa moschetta che abbiamo trovato così veramente funzionante e micidiale nelle acque del Sangro, ma non solo del Sangro. È una mosca molto semplice, è un modello di Fisantail, fa parte di quelle mosche classiche di cui origini si perdono nella notte dei tempi. Forse sta proprio nella sua semplicità il segreto della sua grande validità. A volte uno si chiede ma cosa usano questi garisti artificiali strani? No, ecco, a volte usiamo anche delle cose molto molto semplici. La gara è iniziata e vediamo come va. La partenza per i nostri concorrenti è più che buona. Mario Altora fin dall'inizio si porta in testa con un gran margine sugli avversari. La pesca degli azzurri nel primo turno è con code galleggianti e con streamer. Le altre nazionali per lo più hanno pescato a mosca secca e con tutte le altre tecniche. Le catture si susseguono una all'altra. Ad ogni pesce il commissario che si trova alle spalle del concorrente dopo essersi bagnate accuratamente le mani misura la trota con un apposito attrezzo e assegna 20 punti al centimetro e 100 punti al salmonide che poi viene rimesso subito in acqua. Buona e decorosa la prestazione delle altre nazioni che nulla però hanno potuto fare contro lo strapotere degli italiani abituati ad ogni tipo di tecnica. A dimostrazione del valore degli azzurri la classifica individuale che ha visto ai primi 5 posti 4 dei nostri nazionali. Cocito primo, Baldassini secondo, Ferrero quarto e Coppello quinto mentre al terzo posto si è classificato il polacco Tondera. Un record anche perché mai negli ultimi 5 anni un concorrente in maglia azzurra era salito sul gradino più alto del podio nell'individuale e un record anche per i 5 primi in 5 prove di Cocito. Stupendo per non dire eccezionale il campo di gara che ha messo in evidenza le doti tecniche di tutti gli atleti. Percorso misto con ostacoli al centro in vari punti, raschi nella parte imbrigliata, con scorrevoli continui e zone infrascate dove l'abilità nel lancio si è dimostrata determinante e dove gli azzurri si sono distinti per precisione e numero di catture. Ottimi avversari i polacchi, maestri nella pesca con la ninfa piombata. Primi nella giornata d'apertura davanti alla Francia, terzo Belgio e quarta Polonia, gli azzurri hanno affrontato con più serenità la seconda battaglia. Pesca più leggera, anche se in diversi punti del percorso, dove l'acqua era più profonda, si sono usate ninfe piombate in testa. Oggi risulta che quello che hanno ottenuto i ragazzi, cioè i componenti della squadra azzurra, siano risultati di pregio. Stamattina ho visto pescare il Ferrero, l'Edoardo, che ha preso 60 trote, il che è tutto dire in una manifestazione di questo livello, di questo calibro. Poi ci sono stati ancora dei premi di settore, nelle altre sessioni, da parte degli altri componenti, quindi è un risultato più che apprezzabile, di privilegio e direi anche che fa ben pensare per la conclusione che mi auguro favorevole per la squadra azzurra. Grazie a Marco Crippa. Ci spostiamo sul Volturno, dove sono dislocati due settori. Il fiume ha carattere torrentizio e con acqua leggermente più bassa. Qui le trote vengono catturate quasi al volo, estrate dall'acqua prima che si immettano nella corrente principale con il rischio di slamarsi. È una sequenza continua di cattura a pelo d'acqua. Al termine della seconda giornata, ancora due primi per Cocito, mentre il Belgio riesce a riportarsi al ridosso degli azzurri, ottenendo una vittoria nella seconda tornata di gara. La carta vincente per gli azzurri è la velocità e la perfetta scelta delle esche in ogni situazione. Carlo Baldassini al termine della seconda giornata ha distrutto lui, distrutto noi, però molto molto felice. Come è andata? Ma penso molto bene, ho preso 33 pesci e credo di aver fatto primo. Grazie a tutti. Sul podio, a fianco dell'Italia campione del mondo, il Belgio e la Francia. Dalle splendide acque del Sangro del Volturno, un salto di oltre 600 chilometri, in Lombardia, nella bassa Padana e precisamente a Pizzighettone, dove nella tenuta del Boscone ci aspetta Antonio Biancardi per visitare la nuova riserva di pesca sulle rive dell'Adda. Nella riserva del Boscone è possibile passare piacevoli ore sia pescando che accompagnati dalla famiglia rilassarsi immersi nel verde. approfittiamo dell'occasione per ringraziare la tenuta del Boscone e tutti gli altri sponsor, Fly, Milo, Sam, Trabucco, Tubertini, che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione di questa cassetta e anche a nome loro ci è gradito porgervi i migliori auguri per un 1993 agonisticamente superbo. passiamo ora al secondo successo azzurro o meglio allo strapotere azzurro una gara dove non c'è stata storia per il netto divario di classe tra gli italiani e le altre nazioni la prima coppa del mondo di pesca alla trota parco della manifestazione d'arfo boario con le sue magnifiche terme grazie a tutti inizia la sfilata a quello che con ogni probabilità l'anno prossimo sarà il primo campionato del mondo di pesca alla trota partecipano 17 nazioni rappresentate da 4 pescatori da una riserva e da un direttore tecnico per la prima volta gradita a sorpresa è presente a una gara di pesca a livello mondiale la nazionale russa tra gli altri graditi ospiti la Slovenia e il Sudafrica alla sua prima esperienza in campo internazionale ecco la nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Giorgio Inzaghi Carlo Bergamelli Marino Polognato Giovanni Busato Giancarlo Bongiovanni e la riserva Aldo Dotta che tecniche farai usare ai tuoi ragazzi? io non li obbligherò assolutamente a usare una tecnica particolare rispetto a un'altra qui abbiamo dei grossi campioni e interpreti di tante tecniche in modo particolare della pesca a corona la classica pesca cuneese e anche del classico rotolonna bellunese la classica montatura a corona è una serie di pallini generalmente 20 avvolti su una lenza di un filo del 22 o 24 è una lenza abbastanza lunga di circa un metro dove c'è una sequenza di pallini 20 sono questi pallini il peso complessivo della lenza di circa 8 grammi questa serie di pallini ci permette di sondare raschiare completamente il fondo l'altro tipo di tecnica usata è la tecnica rotolone la tecnica rotolone lo dice anche il nome consiste proprio nel far rotolare l'esca con un movimento assolutamente naturale sul grete, sul fondo del torrente per questo scopo si usa una piombatura diciamo raggruppata che è fatta con questo filo di piombo che viene avvolto a spirale su delle sottile guainette oppure viene avvolto a spirale su dei pezzettini di ferro che poi vengono sfilati e queste spirali di piombo poi vengono inserite nel filo l'apertura dei giochi avviene nel meraviglioso parco delle terme alla presenza di Jos Kleibauer presidente della Confederazione Internazionale di Pesca Sportiva stupendo il campo gara è eccezionale l'organizzazione della SPS Darfo Boario Terme guidata dal Cavalier Giovanni Verga abbiamo il piacere di avere con noi il Cavalier Giovanni Verga organizzatore della Coppa del Mondo a Boario 17 nazioni da Sudafrica alla Russia da Sudafrica alla Russia all'America mi dispiace potevano essere due di più per problemi governativi non sono riusciti ad arrivare però l'anno prossimo credo che aumenteranno ancora adesso l'obiettivo e l'impegno non solo come organizzatore di questa manifestazione ma anche come dirigente nazionale della FIPS CONI è quella di vedere che diventi campionato del mondo io declare ho aperto questa internazionale prima Coppa Mondiale per la trota il fiume si presenta ripopolato abbondantemente di trote e le catture alla fine lo dimostreranno i concorrenti sono suddivisi in quattro settori di 350 metri circa ciascuno in ognuno dei quali gareggiano 17 concorrenti uno per ogni nazione subito dalla partenza gli italiani impongono il loro ritmo distanziando in breve con catture continue gli avversari tra loro e gli altri esiste un abisso le acque di casa e l'alto livello agonistico a cui sono arrivati i nostri rappresentanti non concedono spazio agli avversari ognuno dei quattro azzurri in campo è la massima espressione di una tecnica marino polognato con il rodolon Carlo Bergamelli nell'uso del pallettone Giancarlo Bongiovanni nella corona pesante e Giovanni Busato nella spiralina vediamo adesso vedremo il campo di gara oggi se le trote rimangono sotto io pescheremo a corona però penso di pescare quasi tutta la gara a spirale vederli pescare è uno spettacolo non un errore se non qualche toppata per la troppa foga di ben figurare ecco Giovanni Busato che aggancia e toglie una trota enorme la differenza fra i nostri rappresentanti e gli altri basta vedere come è impacciato il sudafricano nel distendere la canna e nel lancio i più vicini a noi ma con un paio di marce in meno gli svizzeri che alla fine si classificheranno secondi con la sua solita caratteristica marino poloniato della Fabs del Belluna inanella una trota dietro l'altra tre meeting internazionali sulle spalle e un'enorme esperienza in campo nazionale gli consentono di agire con la massima calma è la volta del bergamasco Carlo Bergamelli campione italiano di pesca alla trota nel 1991 inizio della gara penso di farlo con una canna sugli 8-10 metri e poi se le trote si sono spostate sull'altra riva andare con una canna corta per il lancio a rotoloni sono canna canna da 8-10 metri per poter pescare sull'altra sponda e tener ferma l'esca nel punto giusto. Non manca la macchia di colore, è il concorrente americano, un negretto con una struttura fisica mica da ridere che però con la pesca della trote in fiume ha poca dimestichezza. Ecco Bongiovanni, più conosciuto come Bongio, quattro i tricolori del suo palmarès, due titoli individuali e due per società. La sua pesca è inconfondibile, corona caricatissima, terminata dello 0,22 per evitare rotture nel togliere a strappo le trote e canna molto lunga, fino a 13 metri per poter agire anche a largo. Per il suo uso non esiste problema, con la possenza fisica che si ritrova non c'è nessun pericolo. Al termine della prima giornata il risultato è quello che il tototrota aveva preventivato, quattro primi per gli italiani e alle loro spalle gli svizzeri con 9 penalità, terza la cecoslovacchia con 16, quarta la croazia con 25 e quinta la spagna con 27 penalità. Si riparte il sabato dopo una serata passata al night che non ha minimamente intaccato le prestazioni degli atleti, anzi le ha vivacizzate. Si vede che ore piccole e pista da ballo per la pesca agonistica, al contrario di altri sport, sono corroboranti. Riiniziamo la carellata con il bongio nazionale, 20 trote nella prima tornata. La sua azione è veloce e decisa. I fili grossi che usa, 22 e 24 in finale, gli permettono di strappare letteralmente le trote dall'acqua. Nemico dichiarato dei terminali fini ha sempre pescato così e a quanto sembra coi risultati che ha ottenuto, ha ragione lui. Basta osservare, dopo aver visto Buongiovani all'opera, cosa deve fare lo spagnolo per catturare la trota che ha all'amato. Assistiamo ora allo sberlefo che una trotella ha fatto a Bergamo. uscita da una parte a strappo è riuscita a riguadagnare la libertà sfuggendo in un rigagnolo che si trovava alle spalle. Per Carlo non esiste problema, le catture che verranno cancelleranno totalmente la perdita. riecco il caloroso busato alle prese con il cambio della montatura sulla sua 11 metri dive. La sostituzione è velocissima, innesca due camole ed è subito in pesca. sentiamo Marino invece cosa ci racconta. Io non penso di fare niente di nuovo da quello che faccio di solito, però la mia pesca preferita che è quella con una canna di 7 metri, 7 metri e mezzo al lancio utilizzando come commuattura le spirali di piombo. Spero che le trote si spostino su tutto quanto il campo di gara in modo che la mia pesca possa rendere bene. Se le trote non si comprenderanno in quel modo, cioè se l'anno arriva è poco attive, cambierò tattica e pescherò anch'io col sistema piemontese della corona. La differenza tra gli italiani si nota anche dal movimento sul campo. I nostri portacolori continuano a muoversi alla ricerca del pesce se nel punto dove hanno effettuato due passate non sentono nessuna toccata. Gli altri per lo più restano fermi in attesa che la trota vada a cercare la loro esca. Altra differenza sostanziale, l'innesco. Su quel campo gara se ne sono viste di tutti i colori, camole inamate come cagnotti e vermi appesi ad ami dorati che nulla hanno a che vedere con le trote. Anche la seconda giornata è finita e tutto è terminato come da previsione. Per gli italiani otto primi. E qui vediamo la Coppa del Mondo per questa classifica finale. Terza classificata, Spagna. Seconda classificata, la Svizzera. Squadra vincitrice di questa prima Coppa del Mondo in darcomario termo e brisce Italia alla squadra italiana. Un grande applauso! Un grande applauso! Un grande applauso! Un grande applauso! Grazie a tutti. Ma eccoci al titolo più prestigioso, è quello più inseguito dalla nostra nazionale e più seguito dalla miriade di pescatori che popolano la penisola, quello della pesca al colpo. È un pomeriggio fresco e ventilato, cosa abbastanza rara nella bassa lombarda in questa stagione. Scopriamo un luogo ideale per un rilassante bagno nella natura in cui anche la nazionale italiana, dopo il quotidiano allenamento, può finalmente concedersi un momento di relax. Siamo venuti ad incontrarla in questa nuovissima riserva di pesca, oasi unica tra le morte dell'Adda, poco prima della partenza per Enniskillen, Irlanda del Nord, dove sul fiume Erne si svolgerà il 39esimo campionato del mondo di pesca al colpo. Luciarni Detto Guicci È un soprannome che ho sempre avuto e me l'hanno affibbiato anche qua, all'interno della nazionale. Senti, tu fai parte della FLAI. Sì. Che attrezzature userai andando là? Andando in Irlanda, senza altro userò, perlomeno dalle indicazioni che mi sono state date, o bolognese o canno inglese. Roberto Ballabeni, 29 anni, milanese, finalmente nazionale. Che impressione ti fa? È una bellissima impressione, una cosa bella che la sto vivendo così, molto bene. Cercherò di fare del mio meglio, di aiutare anche e di vedere, di copiare da questi campioni. Franco Gagliani, nuovo anche lui nella nazionale. Che impressione ti fa? Senz'altro un'impressione positiva. Far parte della nazionale azzurra è sempre una cosa, direi, oltre che prestigiosa, piacevole. Siamo convinti di poter, di avere le carte in regola per accedere a prima parola. Giampiero Barbetta, sei anni consecutivi in azzurro, è stato definito un attimo fa da uno della Tubertini, l'Ensemigliana, che non ti dico chi, aveva la barba. Il più grande rompiballe di questo mondo perché peschi troppo. Io lo ringrazio, ma la pesca è una cosa che uno sente, insomma. Io faccio solo quello. Noi siamo tra i favoriti, diciamo, per il podio. Poi vincere è questione anche di un pizzico di fortuna. Vediamo un attimo il paese che ospita quest'anno i 39esimi campionati del mondo, l'Irlanda del Nord. Vediamo un attimo il paese. Quello che si presenta ai concorrenti è un campo insidioso e difficile. In prova, infatti, le catture sono state scarse e difficoltose. Gli azzurri optano per l'italianissima bolognese, già sperimentata con successo nelle giornate di allenamento effettuate un mese prima della competizione. Si parte per la prima giornata. Le favorite, Inghilterra, Francia, Italia e i padroni di casa dell'Irlanda del Nord. L'azione si sviluppa a largo, a circa 40 metri dalla riva, con 6-7 metri di fondo. Le toccate sono rare. L'importante è scapottare. Fin dalle prime prove si era compreso che sul gradino più alto del podio sarebbe salita la squadra che alla fine avrebbe fatto registrare il minor numero di capotti. Due soli campigara dove l'azione di pesca era regolare. Negli altri tre l'andamento è stato altalenante, con una ricerca continua del pesce che, già scarso, mangiava anche male di malavoglia. Ogni concorrente aveva a sua disposizione 50 metri quadrati circa di spazio cintato da un mastro. Perfetta l'organizzazione della nazionale italiana. Alle spalle di ognuno dei nostri portacolori c'era un accompagnatore che con una ricetrasmittente comunicava agli altri quanto stava accadendo in quel settore, sia all'azzurro che agli altri concorrenti. Di buon auspicio per l'esito finale, la partenza al fulmicotone di Franco Gagliani, che solo dopo 30 secondi dal via incestinava il primo pesciolino. Abbondante e ininterrotta da parte dei nostri la pasturazione per trattenere a tirare sul posto il pesce. Gardon e bread. Le montature erano semplicissime. Per insidiare i pesci a largo, gli azzurri per lo più hanno usato bolognesi da 7-8 metri, galeggianti da 8-12 grammi fissi, come piombatura una torpilla più o meno pesante bloccata da un pallino e un finale unito alla lenza madre da una girella. In questo modo sono riusciti a far scorrere senza intoppi l'esca tra i grossi sassi del fondo, presentandolo in modo naturale molto morbido ai brem, che sono abituati ad agire molto lentamente. condizione che gli altri, pescando all'inglese e in altri modi, non riuscivano a mettere in pratica. Innesco con uno o due bigattini all'inizio per insidiare i gardon, poi, quando si è iniziato a sentire aria di brem, ha spiegato Milo, si è passati al piccolo verme di letame. Senti, ho visto che hai una canna in mano, sei arrivato da pescare. Sì, sono arrivato da pescare adesso e penso che sarà un atletto che quest'anno useremo ai prossimi campionati del mondo. Abbiamo provato già un mese fa il campo di gara e sappiamo che sarà una pesca alla bolognese, quindi una pesca tipica per gli italiani. Speriamo che questa tecnica possa essere efficiente anche su questo campo di gara. Milo, questo campionato del mondo, se ammettiamo che vada nel migliore dei modi, cosa può portare alla Milo, campione del mondo? Beh, diciamo che può portare alla Milo quello che può portare a tutte le industrie italiane nel settore della pesca, cioè un interesse per tutti i paesi europei al prodotto italiano. Quindi è un risultato d'Equipe che riesce sicuramente a soddisfare le esigenze di tutti. Insomma, non è che sia un discorso specifico nei nostri confronti. È un'immagine che diamo del prodotto italiano all'estero e che è molto importante. Ecco, anche qui c'è Roberto, perché è piena tensione, in piena azione. Vediamo però anche lui come era prima del mondiale al Boscone. C'è un'intervista e sentiamo cosa diceva Roberto prima di trasferirsi. Penso che Chines vi farà pescare la Bolognese. Che cosa pesca? Beh, in un campo di guerra così se le condizioni del vento possono rimanere entro certi limiti, sicuramente è una delle tecniche che andrà meglio. Io sinceramente non mi piace pescare con queste mani anche perché ci ho pescato per tanti anni in passato che speriamo di ben figurare, insomma. Roberto Trabucco, la verità, stai pensando di vincere il mondiale? Eh, sto pensando di vincere il mondiale. Io ci penso tutti gli anni. No, 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 no. Entusiasmo e batticuore da parte di tutti. ad ogni cattura e in particolare alle prime. Salvare il capotto era essenziale per il risultato. Mi si sono addirittura appannati gli occhiali per l'emozione e la tensione, ha dichiarato alla fine della gara a Barbetta, riferendosi al primo pesce inserito nella Nassa. C'è chi è arrivato addirittura a baciare il suo primo esemplare sul naso come il concorrente delle isole del canale. Qualcuno poi, verso la fine della prima tornata di gara, per evitare il nulla di fatto, ha sfoderato una cannettina da un metro e cinquanta e ha insidiato la minutaglia del Sottoriva, che si era rifugiata al riparo della lunga Nassa. Risultato, nove pesciolini che le hanno fatto conquistare posizioni. ottima la prestazione di Guicciardi, nonostante fosse alla sua prima esperienza in campo internazionale. La prima giornata di gara è finita. Siamo arrivati al momento della verità, quello della pesatura. L'Italia è prima. Pronto, pronto, Umberto Ballaveri, non ti sento più. Franco, 7.740, passo. Sì, ti sento, Gastone. Giampiero, 1.020. Il numero 2, 80 grammi. Il numero 3, 0. Il numero 4, 0. Va bene, ricevuto. Il numero 11, 290 grammi. Il numero 10, l'Olanda, 210. Il numero 9, 1.020. Il numero 8, l'Australia, 4.190. Il numero 7, l'Ungheria, 7.340. Ok, ricevuto. Allora, comincio a darvi le classifiche. Italia, 20 punti. Vado avanti con le altre nazioni. Le più in evidenza sono la Francia, che fa 2, 4, 6, 6, 5, 11, 4, 15 e 16, 31. Quindi sarà seconda con 11 punti di distacco. Siamo alla tavola degli azzurri. Carlo Chines è, direi, abbastanza rilassato e sorridente. Cosa mi dice? Ah beh, dopo un risultato come quello di oggi, bisogna essere per forti soddisfatti. Naturalmente, con i piedi per terra, perché le gare sono due, e quindi domani potrebbero succedere anche delle sorprese. Però, diciamo che l'essersi verificate tutte le previsioni che avevamo fatto, cioè, primo, il numero di cappotti che è risultato circa il 50%, e secondo, che la pesca con la bolognese fosse vincente, ci conforta nel ripetere anche domani tutto quello che abbiamo fatto oggi e speriamo che venga anche lo stesso risultato. Ci troviamo al momento della preparazione delle pasture. Vorrei che tu cortesemente ci spiegassi i vostri trucchi. Beh, guarda, dei grossi trucchi non ne abbiamo. Qui vediamo Roberto che sta preparando. Sì, è una pasture, come tu puoi vedere, piuttosto chiara. Ecco, quello che sta aggiungendo, Roberto, è del germe di mais. È notorio che questo prodotto sia molto interessante per queste brem, soprattutto per la brem. E la base della pastura è sicuramente a base di pane, di biscotti, e di prodotti molto dolci, tipo il collante. Soprattutto si cerca di fare una pastura che sia piuttosto consistente, che riesca ad arrivare sul fondo con una certa rapidità e abbia anche la proprietà di dissolversi piuttosto rapidamente, in modo tale da poter lasciare libere le esche che questa pastura contiene, quindi caster e larve di zanzara a fuel. Seconda prova, la decisiva, quella della paura, della speranza e della gioia. Dopo il numero uno della prima giornata, all'Italia tocca il numero 26, che non dà molto affidamento. La giornata è brutta, piove con molto vento, che disturba l'azione di pesca. Fa freddo e i nostri, come gli altri, sfoderano impermeabili e palandrane per ripararsi dalla pioggia. Solo un pallido sole fa capolino verso la fine della prova. Sono momenti di trepidazione. Troppe volte la vittoria era sfuggita all'ultimo per una manciata di punti. La tensione è alle stelle. Un errore può compromettere tutto, anche perché i francesi incalzano senza tregua. In quei momenti, ha dichiarato Milo alla fine, in cui non riesci a catturare e sai che un pesce ti può dare la vittoria, si vorrebbe quasi avere a disposizione un paio di bombole per immergersi e andare a cercarlo. in cui non riesci a cercare di domenare. Grazie a tutti. Guicciardi intanto continua a catturare dimostrandosi in forma smagliante. Alla fine solo pochi punti lo separano dal mondiale, l'australiano Wesson. Un pescatore che non si era mai messo in luce ma che però in un'intervista a un quotidiano inglese ha dichiarato di voler eguagliare almeno le tre vittorie del grande Tess. Un record prestigioso. È molto giovane e può farcela, glielo auguriamo, ma torniamo all'Italia. Abbiamo avuto quel pizzico di fortuna che ci è mancato le altre volte, ha dichiarato alla fine Barbetta che per sei volte ha gareggiato nei campionati mondiali. Per un non nulla abbiamo perso allora e ora grazie alla dea bendata favorevole ci siamo rifatti. Siamo quasi alla fine. Dopo un'enorme paura per una canna francese che si era arcuata picchiando verso il fondo come se alla lenza ci fosse stato attaccato un grosso gardon che poi invece è risultato essere un ramoscello vagante, l'Italia cattura a cinque minuti dalla fine un bel esemplare con Guicciardi. Ritorna la speranza. È questione di pochi, pochissimi punti. Comunque io la do per persa, quindi tutto quel che viene trovato. Il numero 8, Irlanda, 2.690, il 9 capotto, il 10 capotto, 20.7 0, 269 0, 62, 25.1170, 24.0, passo. Allora signori siamo campioni del mondo. 54 a noi, 97 la Francia, ufficiale! La Francia, ufficiale! La Francia, ufficiale! La Francia, ufficiale! La Francia, ufficiale!